Eccoci più ragazzi in un nuovo video, allora in questo video andremo a vedere quella che è l'attuale situazione di Bitcoin quindi andremo a dare un'occhiata al grafico per vedere i livelli che sto guardando con particolare attenzione ovviamente come al solito i prossimi trade che ho intenzione di aprire, però ancora prima di andare a dare un'occhiata al grafico di Bitcoin molto velocemente giusto ricordare che la vera volatilità molto probabilmente ci sarà settimana prossima ovviamente in questo video parlerò anche di potenziali trade delle prossime ore del prossimo paio di giorni però ripeto la vera volatilità molto probabilmente sarà settimana prossima infatti settimana prossima sarà da segnare al calendario come una settimana molto importante perché ci sarà innanzitutto il meeting FOMC quindi il meeting fatto dalla Fed a Reserva nel quale verrà deciso se saranno alzati o meno i tassi di interesse e di quanto il giorno prima del meeting FOMC invece saranno rilasciati i dati CPI quindi dati sull'inflazione degli Stati Uniti anche questi ovviamente sono dei dati molto importanti a tenere bene in considerazione perché quelli che saranno i dati sull'inflazione avranno un certo impatto sul mercato e sulle decisioni che prenderà la Fed a Reserva il giorno successivo nel meeting FOMC e come se non bastasse come se non ci fossero già abbastanza eventi uno dopo l'altro settimana prossima più precisamente venerdì ci sarà anche la scadenza delle opzioni del mercato americano e anche questo è un qualcosa di molto importante perché tra l'altro non è una semplice scadenza delle opzioni ma ci sarà la scadenza delle opzioni mensili e anche quelle trimestrali e tendenzialmente quando questo capita quando in concomitanza con la scadenza delle opzioni mensili c'è anche la scadenza delle opzioni trimestrali si crea molta volatilità sul mercato americano e sappiamo molto bene che molta volatilità sul mercato americano tende ad avere un certo impatto anche su Bitcoin e sulle cripto in generale non sempre necessariamente il mercato azionario è collegato con il mercato delle cripto e con Bitcoin tendenzialmente sì ci sono anche dei momenti come per esempio le ultime settimane che abbiamo visto il mercato azionario continuare a salire mentre Bitcoin scendere e correggersi dai 31.000 agli attuali 26.000 dollari circa però tendenzialmente c'è un collegamento soprattutto in giorni di alta volatilità quindi settimana prossima sarà una settimana molto importante e molto volatile direi quindi di non perdere più neanche un minuto e di andare subito a dare un'occhiata a quella che è la situazione su Bitcoin e come al solito ovviamente ragazzi se siete nuovi su questo canale vi piacciono questi tipici di contenuti non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale allora io direi di partire subito dando un'occhiata al grafico mensile per farci un'idea di quella che è l'attuale situazione anche macro per poi andare a vedere i time frame minori e mostrare i trade di breve termine allora innanzitutto in questo momento il mensile mi lascia ad un bias più bearish che bullish infatti come possiamo notare dopo questa conformazione di uno spinning top di questa candela di aprile a inizi maggio ho detto che tendenzialmente questo si rivela essere un pattern bearish quindi si vede una continuazione della correzione del prezzo effettivamente la correzione c'è stata a maggio è stato un mese direi quanto meno negativo infatti siamo passati da un'apertura dei 29.200-29.300 circa fino a un minimo di 25.800 dollari anche giugno direi non bene infatti ha aperto poco al di sopra dei 27.000 e abbiamo toccato un nuovo minimo dei 25.300 dollari target di cui avevamo parlato nelle ultime settimane quindi in questo momento a mio parere la situazione rimane più in mano ai bears che ai bulls potrei iniziare a cambiare idea nel momento in cui dovessimo vedere una risalita e una rottura della resistenza del massimo del mensile che abbiamo visto un paio di giorni fa dopo il crollo dopo la correzione fino ai 25.300 avrebbe visto una rapida risalita fino ai 27.400 dollari ecco nel momento in cui ci dovesse essere una risalita e una chiusura al di sopra del massimo mensile a quel punto potrei dare delle opportunità ai bulls almeno fino all'apertura di maggio dei 29.200 dollari circa o anche addirittura nella migliore delle ipotesi di un double top intorno ai 30.500-31.000 dollari però ripeto potremmo iniziare a parlare di un'eventuale inversione di una risalita nel momento in cui dovessimo andare al di sopra del massimo mensile vediamo invece un'occhiata al giornaliero che cosa notiamo allora se diamo un'occhiata al giornaliero notiamo che in questo momento fino però a contare comunque siamo in questo range di prezzo potremmo dire che un range di prezzo va dai 30.500 fino ai 25.300 dollari poi c'è il range di prezzo inferiore che potremmo dire che va dai 18.000-18.500 fino ai 25.300 quindi ci troviamo comunque sopra ad un supporto quindi non penso che sia il caso almeno per me personalmente di iniziare a posizionarsi eventualmente con degli swing short perché ripeto fino a che non dovessimo perdere questo supporto, questo range ecco la situazione comunque rimane abbastanza stabile dall'altro lato come sempre mi sbilancio e dico che non ho idea di dove andremo prossimamente se scenderemo ulteriormente oppure se ci sarà una risalita, un pump da parte di bitcoin e delle cripto però se dovessi attribuire delle probabilità ecco penso che le probabilità maggiori dopo magari anche delle risalite dopo una fase di consolidamento ecco penso che le probabilità maggiori siano quelle di andare a rivisitare questo range successivo quindi chi mi segue sa molto bene che potenzialmente i target potrebbero essere intorno ai 22.900-23.000 dollari circa oppure poco al di sopra del CME gap intorno ai 19.800-20.000 dollari in questo momento ovviamente è presto per parlare di questi target perché siamo ancora fino a prova contraria sopra ad un supporto però ripeto se dovessi dire la mia attribuisco delle buone probabilità ad una potenziale rottura della resistenza prossimamente e un ritest di zone inferiori cambierei invece totalmente il mio bias e diventerei parecchio bullish e la mia idea è sempre rimasta questa ormai da mesi nel momento in cui bitcoin dovesse risalire rompere la resistenza dei 32.000 dollari circa e chiudere al di sopra a quel punto penso che come minimo andremmo a ritestare i 35.000 dollari se non anche a toccare i 40.000 però fino a che non romperemo questa resistenza rimango dell'idea che vedremo una continuazione della correzione per poi salire poi prima dell'halving e vedere un bull market per quanto riguarda i brevi time frame invece come ho intenzione di posizionarmi allora come dicevo molto probabilmente la vera volatilità arriverà settimana prossima se nei prossimi giorni, nelle prossime ore, questo weekend magari invece dovessimo vedere una correzione del prezzo di bitcoin o meglio una leggera correzione sotto a questo supporto quindi supporto dei 26.000 e 3, 26.400 dollari circa magari potremmo essere anche più precisi prendendo direttamente la media mobile dei 200 giorni sul settimanale sì che si trova all'incirca intorno ai 26.000 e 3, 26.400 dollari ecco se dovessimo vedere una correzione intorno a quella fascia di prezzo ed una risalita e un consolidamento sopra i 26.500, 26.600 a quel punto potrebbe avere senso aprire un veloce breve scalp long targetizzando il pool di liquidità intorno ai 27.000 e 3, 27.500 dollari circa potenzialmente un altro scalp veloce che potrei aprire a questo punto sarebbe invece una posizione short proprio su questo pool di liquidità con uno stop loss poco al di sopra avendo come primo target i 26.400, 26.500 dollari e potenzialmente come secondo target i 25.300 dollari quindi questi sono un po' i brevi e potenziali scalp delle prossime ore del prossimo paio di giorni per quanto riguarda settimana prossima proprio perché mi aspetto abbastanza volatilità direi che andare short sotto questa resistenza oppure long in questa fascia di prezzo è abbastanza rischioso proprio perché ripeto la volatilità potrebbe portare il prezzo più in alto oppure molto più in basso e quindi in caso di volatilità potrebbe avere molto più senso un qualcosa del genere quindi nel momento in cui ci fosse una risalita che si trasformerebbe in un fake out quindi una continuazione della discesa ecco a questo punto il momento in cui dovessimo scendere nuovamente sotto i 27.400 dollari potrei posizionarmi short avendo sempre come target principali i 26.4 e i 25.3 per quanto riguarda le posizioni long per la settimana prossima potrebbe essere invece interessante a mio parere un qualcosa del genere quindi nel momento in cui ci fosse una correzione un po' più ampia e dovessimo andare al di sotto del supporto dei 25.300 dollari ecco nel momento in cui ci fosse una risalita e un ritest positivo consolidazione sopra i 25.3 a quel punto sicuramente mi posizionerò long targetizzando i 27.500 dollari ovviamente come al solito sotto in descrizione trovate anche i link di Bybit e di Bitgat che sono le principali piattaforme che utilizzo per fare trading a leva su bitcoin e trovate anche i link dei video tutorial completi che ho fatto personalmente arrivati a questo punto ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti come siete attualmente posizionati quali sono i vostri setup fatemi sapere se in questo momento siete più bullish oppure se siete più bearish io come al solito spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile dire che anche per oggi è tutto noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video